Non vi abbandonate mai a voi stesse. Ogni fiducia ponetela in Dio solo. Perché dichiara esattamente di voler poggiare la sua speranza soltanto nella persona di Gesù Cristo. Ieri avevamo sentito che spronava Raffaellina Cerase a deporre e poggiare la sua speranza, la sua fiducia in Gesù. Qui invece si parla di speranza. Perché Padre Pio fa questo accenno? In questo caso e senza dubbio dagli scritti che abbiamo letto, Padre Pio compie un atto autoreferenziale. Sta pensando soprattutto a se stesso per almeno due motivi. Cioè spieghiamo perché ci invita a porre la speranza in Gesù Cristo. Pensando a se stesso perché durante tutto l'arco biografico della sua esistenza, trasferito di convento, continuamente sottoposto a malferma salute. Qualche volta e più di qualche volta mal compreso dalla Chiesa, addirittura che lo obbligò ad allontanarsi dalla gente, se non avesse deposto tutta la sua speranza in colui che ci dà forza, come dice San Paolo che è Gesù Cristo, forse non avrebbe visto il filo rosso della sua esistenza come di fatto lo è. Ma è la seconda, la seconda motivazione che ci interessa particolarmente. Guardando al figlio di Dio, come ha fatto il figlio di Dio, e quindi poi lo capiamo anche in Padre Pio, a porre la sua speranza nel Padre, nel modo in cui Gesù è riuscito a vivere il tempo, secondo una triplice modalità. Primo, Gesù non ha mai anticipato i propri progetti rispetto ai progetti che il Padre aveva per lui. Donna, non è ancora giunta la mia ora. Secondo, Gesù ha compiuto la volontà del Padre punto per punto. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, tuttavia sia fatta la tua e non la mia volontà. Terzo, come costante sì detto allo Spirito Santo. Quasi fosse un pazzo. Gesù non è che abbia compiuto la volontà parte per parte, ma in tutto. Parimenti Padre Pio non ha mai anticipato i propri progetti personali rispetto a quelli che i superiori avevano per lui. Dimostrazione nel fatto che è stato trasferito qui a San Giovanni Rotondo, terzo sito cattolico più famoso del pianeta Terra adesso per quanto riguarda la Chiesa Cattolica. Padre Pio ha compiuto la volontà punto per punto anche quando il 20 settembre del 1918 ricevete le stigmate. Non ha detto di no. E soprattutto come costante sì detto allo Spirito Santo. Ecco, fratelli e sorelle, abbiamo tradotto, penso nella maniera più semplice e sintetica, ciò che Padre Pio intendeva con l'affermazione riponi la tua elpis, si dice in greco, la tua speranza soltanto nel Signore Gesù. Appunto, vivendo il tempo della tua filialità, che può essere anche la più piatta, la più banale che ci sia, secondo la triplice modalità con la quale è stata vissuta dal figlio di Dio, che ha dato senso al tempo e con la quale è stata vissuta da Padre Pio. Altrimenti non sarebbe riuscito a permanere per ben 52 anni stabile qui a San Giovanni Rotondo, se non avesse riposto la sua speranza in Gesù Cristo. E permettetemi quest'ultima citazione che Padre Pio scrive nel suo epistolario della lettera ai Romani, capitolo quinto, versetto quinto. In che cosa consiste la speranza? Nella speranza di poter sperare. E questa è la grandezza del cristiano. La speranza di poter sperare. La speranza di poter sperare. Grazie a tutti.